Una vera ispirazione, Charles. Grazie, ma non riesco ancora a localizzare Sho. È laggiù. Dobbiamo trovarlo immediatamente. Hank? C'è niente di insolito sul radar o sugli scanner? No. Niente. Allora deve essere sott'acqua. E ovviamente non abbiamo un solar. Sì, lo abbiamo. Sì, lo abbiamo. Sono pronti alla guerra. Dobbiamo solo accendere un fiammifero per dare fuoco alla miccia. E abbiamo ancora la più potente delle armi. Me. Porta il reattore nucleare al 100% di emissione e assicurati che nessuno mi disturbi. Ehi! Fa volare dritto questo cavolo di aereo! No! Tu stai lontano da me! Bestia, apri i portelli del vano bomber! Mi raccomando! È un muscolo! Lo puoi controllare! Sarai qui tutto il tempo! Ci rivedremo presto! Al mio segnale! Tre! Due! Uno! Allerta la flotta! È meglio che si tolgano le cuffie. Benshi ha localizzato Sho! Sei pronto, Eric? Scopriamolo. Il faut si morire! No, no. Ricorda il punto fra rabbia e serenità. No, no. 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 No, no.